Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio del Let's Play di Minecraft. Nella scorsa puntata sono partito in missione per andare nella foresta di mangrovie e catturare delle rane, che ci serviranno per l'episodio di oggi. Inoltre ne ho approfittato anche per poter esplorare una caverna che si trovava nella zona, recuperando un bel po' di materiali. Prima di iniziare però ho da mostrarvi alcune cose che ho costruito in live. Vi ricordo come sempre che mi trovate su Twitch ogni mercoledì, venerdì e domenica a partire dalle 20.45. Abbiamo cambiato leggermente l'orario per l'estate. Il link del canale live lo trovate in descrizione, mi raccomando venite a trovarmi e lasciate anche un bel follow. Quindi adesso attiviamo le shaders perché dovremmo fare un piccolo viaggio qui sul fiume. Come avrete notato qui ci troviamo nella zona della casa del mago, ma noi dobbiamo andare nella direzione opposta, quindi da questa parte, e proseguire su questo fiume che non ho ancora decorato del tutto, ma ho allargato in modo che sia completamente navigabile. Facciamo questa piccola ansa e arriviamo ragazzi alla zona dell'acquario. Come vedete qua ho modificato tantissimo il terreno dato che in questo punto una volta c'era la terra e adesso invece prosegue la parte del fiume. Da questa parte si entra all'acquario, dobbiamo aprire la nostra porta ad acqua, questo l'ho costruito già un bel po' di tempo fa, ci sono i pesci qua e all'interno di questa vasca, qui c'è anche il droned e di qua ho fatto tutta questa decorazione, aggiungendo anche una parte qui, un piccolo acquario dove ho messo i pesci palla. Ragazzi adesso forse non si vede, eccola, ce ne sono due o tre anche di più qua all'interno. Perché li ho messi qua e non dall'altra parte ragazzi? Perché mi uccidevano il droned, quindi ho dovuto separarli dagli altri. Da questa parte ragazzi, guardate, sto decorando anche questa zona con un ponte, salve signor Squid, e qua c'è la zona della palude che però non è ancora finita. Quindi vi faccio vedere innanzitutto la parte qui con il ponte, ponte in stile palude, tra virgolette, vedete qua la strada prosegue da questa parte, sale di qua e va a congiungersi con la zona dei conigli, questa qui che abbiamo spostato perché era vicino alla casa e procurava lag, e qua abbiamo la zona dei lama che dovrebbero essere là dentro. Sì, sono tutti ammassati lì e non so il motivo. Adesso ragazzi sto lavorando a un'altra zona che però in questo momento non posso mostrarvi che si trova in questa direzione. Fra qualche settimana penso che ve la potrò mostrare. Guardate il nostro ponticello, ci sta davvero molto molto bene. Giusto per ingolosirvi un attimo ragazzi, questa è la zona a cui sto lavorando adesso in live. Se volete scoprire che cosa sto facendo, venite a trovarmi stasera. Allora, adesso ci spostiamo qua nella palude perché oggi andremo a costruire una zona dove far riprodurre le rane. Ecco qui la zona che ho scelto per il lavoro di oggi. Non ci troviamo molto distanti dalla farm di slime che si intravede lì tra gli alberi. Oggi vorrei costruire la zona dove far riprodurre le rane, che sarà completamente chiusa qua, e qui davanti fare una decorazione, ossia una statua di una rana con l'acqua che esce dalla bocca ed entra quindi in questo stagno. A questo punto devo iniziare a spianare un pochino il terreno. Devo quindi togliere sicuramente quest'albero qui e andare a togliere anche un po' di terra. Poi andremo anche a decorare perché è davvero davvero molto spoglia questa parte qui e sinceramente il colore dell'erba della palude non è che mi piace tantissimo. Allora, qui sfrutteremo questa rientranza del fiume per fare la statua della rana che sarà qui e qui andremo a costruire la nostra farm che sarà molto semplice ragazzi perché non dobbiamo fare altro che costruire una parte chiusa, profonda, due blocchi dove metteremo l'acqua perché le rane si devono riprodurre nell'acqua. La faccio chiusa perché le rane hanno l'abitudine di saltare e quindi andrebbero in giro. Utilizziamo però il legno di mangrovia che è quello nuovo della 1.19. Quindi facciamo 1, 2, 3, 4 e 5. Guardate che bellino il legno di mangrovia con questo verde della palude. Poi 1, 2, 3, 4, 5 anche qua. Quindi facciamo così. Qua altri 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quindi anche qua mettiamo il legno di mangrovia e qua andiamo a fare così. Struttura abbastanza squadrata ma appunto dobbiamo solo utilizzare questa zona per far riprodurre le rane. E poi qua andiamo a scavare un po' di blocchi. Direi almeno un paio. Ok qua ho scavato, ho messo già le pareti con il legno di mangrovia. Adesso qua in mezzo voglio fare una piccola cosa così in modo che le rane possano salire e stavo sistemando un pochino il fondo e lo faccio misto terra sabbia. E poi lo andiamo anche un pochino a decorare con delle alghe in modo da fare un fondo. Ok fatto questo andiamo a prendere dell'acqua. Qui ho dei secchi e andiamo a riempire tutto quanto. Allora io farei 1, 2, 3, 4 e 5. Ok adesso vado a riempire di nuovo tutti i secchi. Acqua messa, facciamo un po' al fondo. Non mettiamo queste alghe doppie perché ci danno fastidio e qui le rane non potrebbero deporre le loro uova. Direi che così può andare bene. E adesso vediamo di posizionare le porte per entrare. Io le farei laterali perché qui ci sarà appunto la statua quindi metterei una porta qua di mangrovia. Guardate che carina. E una porta qua così. Perfetto. E poi adesso andiamo a fare tutta quanta la struttura utilizzando il vetro. Il vetro lo farei trasparente, non colorato perché secondo me è più bello e si vede soprattutto dentro quali tipi di rane ci sono. Ecco una cosa purtroppo delle rane è che a seconda del bioma dove le facciamo riprodurre vengono di tipo diverso. Quindi qua non potremo avere tutti quanti i tipi di rana. Dobbiamo poi spostarci eventualmente in altre zone. Ok fatta la struttura adesso andiamo a decorarla un minimo è proprio giusto per non lasciarla così farei una specie di parte in questo modo. Qua metterei blocchi interi così e qua andiamo a mettere invece le trapdoor che sono veramente belle quelle di mangrovia e sotto ci attacchiamo una lanterna così. Ok dai almeno è meno squadrata la cosa. Ok questa la mettiamo quindi qua e qua sotto la nostra lanterna. Perfetto. Così andiamo anche a illuminare. Starà molto meglio quando metteremo qua davanti la statua della rana che andremo a fare tra poco. Bene direi che ci siamo. A questo punto devo andare a recuperare le due rane che avevo catturato nello scorso episodio e le porto qua dentro. Allora le avevo lasciate qua nella zona del mulino se non mi sbaglio qua dove c'è lo stagno quindi atterriamo morbidi morbidi qua e recuperiamo le nostre rane. Eccole qua una e un'altra era qua dentro. perfetto. Ok ci sono tutte e due adesso ci aspetta un viaggio a piedi un pochino più lungo quindi preferisco andare a dormire e poi recuperarle. Ci siamo. Forza rane venite a me. Allora dove sono? Non perdiamo i guinzagli. Una e due. Perfetto. Allora davanti a casa ci sono arrivato. Per fortuna ho costruito tutte le strade perché altrimenti sarebbe stato un po' un problema arrivare alla palude. Invece così dovrebbe essere un pochino più semplice. Sto andando a marcia indietro perché voglio vedere che non si incastrino da qualche parte ma vedo che corrono davvero tantissimo queste rane. Sono pazzesche. Allora devo andare di qua. Sì guarda come nuotano. Sono troppo belline le ranette ragazzi. Sono fatte davvero molto molto bene. Ed eccoci arrivati. Allora apriamo la porta. Entriamo. Facciamo così. Dovrebbero passare. Esco da quest'altra. Secondo me è la cosa migliore. Et voilà. Ok entro. Chiudo quella porta lì. Questa e anche questa. E le libero. Perfetto. Una e due. Missione compiute ragazzi. Adesso slime ball per farle riprodurre. Eccoci qua. Allora cuoricini per la prima e cuoricini per la seconda. Allora non so che tipo di rana possa crescere qua se quella bianca oppure un altro colore. Lo scopriremo appena avranno deposto le uova. Nasceranno i girini e poi cresceranno e diventeranno delle rane. Ed ecco qua le nostre prime uova di girino. Come vedete c'è questo bug grafico che rende l'acqua completamente trasparente. Non solo con le shaders ma anche senza. Penso che prima o poi lo correggeranno. Allora andiamo a costruire intanto che aspettiamo la statua della rana. Allora andiamo a fare uno e due. Così è centrata. Perfetto. Poi qua andiamo a mettere uno due tre. E qua facciamo così. E saliamo anche qui di un altro blocco così. Ovviamente sarà molto ma molto semplice. Però vedrete ci sta un sacco. Qua andiamo a mettere queste qua. Cambiamo colore. Quindi così così. E qua andiamo a mettere una scala dove faremo uscire l'acqua che quindi entrerà qua nello stagno. E qua andiamo a fare le zampette. Allora per le zampette mettiamo un blocco così e un'altra scala qua. Così. E qua andiamo a fare la stessa cosa dall'altra parte. Quindi blocco e scala. Ci siamo quasi perché dobbiamo fare la parte qua sopra. Quindi andiamo a chiudere così e andiamo a mettere quelli che saranno gli occhi. Uno e due. Che però andremo a fare utilizzando dei banner. Ora possiamo fare la versione derp che sarà così della nostra rana. Quindi uno lo mettiamo così è un altro così. Però secondo me ragazzi non è il massimo. Non è il massimo la versione derp della rana. Comunque ci sta. Io direi di invertirle. Adesso sì ragazzi. Perfetto. Guardate molto semplice ma efficace. Eccolo qua. Basta metterlo in questo punto così. Voilà ragazzi. Guardate che carina. Dai ci sta. È molto molto semplice. Ripeto però efficace. Efficace. Adesso vado off camera a decorare tutta questa zona. E poi andiamo a vedere se nascono le prime rane. Qui ci sono ancora i girini. Stavo giusto iniziando le decorazioni quando sono nati i primi girini. Ce ne sono tre in tutto. Eccoli qua ragazzi. Sono davvero troppo cute. Guardateli. Adesso sono curioso di vedere che tipo di rane escono quando saranno cresciuti. Ed ecco qua ragazzi la zona completamente decorata. Guardate ho fatto crescere anche una mangrovia. Questa è rara perché grande così ragazzi non le riuscite a ottenere facilmente. Normalmente sono davvero tantissimi blocchi. Ne ho dovute togliere due perché erano davvero gigantesche. Quindi lascio solo quella. Ci sta perché siamo nella zona della palude ma altre per il momento non vado a farle crescere. Come vedete ho messo un po' di dettagli. Ovviamente non in tutto lo stagno che è grandissimo. Però in questa parte qui dove aveva fatto la statua è venuto abbastanza bene. Poi da questa parte c'è la zona con la riproduzione delle rane e vi faccio vedere che sono cresciute quelle arancioni. Eccole qua ragazzi. Fantastiche. Mi mancherebbero solo quelle verdi che si ottengono mi pare riproducendo le rane nelle zone innevate. Quindi basterà spostarsi un pochino per raggiungere le montagne che sono in quella direzione e potremmo ottenere anche il terzo tipo. Lo farò magari con calma. In ogni caso ragazzi la nostra missione è compiuta e anche la zona tra virgolette un pochino riqualificata appunto con questa bellissima decorazione. E dunque ragazzi siamo giunti anche oggi al termine di questo episodio. Spero vi sia piaciuto. Mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi al canale e vi aspetto in live su Twitch questa sera alle 20.45. A questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo episodio. Ciao a tutti!